E cos'è la poesia? Avanti! Scusate. Dovrei prendere le mie cose. Vuole che torni dopo la lezione? Le prenda adesso, professore. Signori, aprite a pagina 21 dell'introduzione. Signor Cameron, legga ad alta voce l'ottimo saggio del professor Pritchard dal titolo Comprendere la poesia. La pagina è stata strappata, signore. Si faccia prestare il libro da qualcuno. Sono state strappate tutte. Come sarebbe, sono state strappate tutte? Ecco, vede... Non importa. Legga. Comprendere la poesia di Jonathan Evans Pritchard, professore merito. Per comprendere appieno la poesia, dobbiamo innanzitutto conoscerne la metrica, la rima e le figure retoriche, e poi porci due domande. Uno, con quanta efficacia sia stato reso il fine poetico. E due, quanto sia importante tale fine. La prima domanda valuta la forma di una poesia, la seconda l'importanza. Una volta risposto a queste domande, determinare la grandezza di una poesia diventa una questione relativamente semplice. Se segniamo la perfezione di una poesia sull'asse orizzontale di un grafico... Professor Chidi! Si sieda, signor Anderson. La prego, deve credermi, è vero. Certo che ti credo, Tony. Se ne vada, professore. Ma non è stata colpa sua. Ho detto si sieda, signor Anderson. Un'altra intemperanza sua o di chiunque altro, e lei sarà espulso dalla scuola. Se ne vada, professore. Ho detto se ne vada, Kittin. Capitano mio, capitano! Si sieda immediatamente, Anderson. Mi ha sentito, vero? Si sieda! Ho detto si sieda! Guardi, è l'ultima volta che glielo dico. Come si permette? Mi ha sentito, Anderson. Capitano mio, capitano! Signor Overstreet, l'avverto. Si sieda immediatamente. Seduti, ho detto. A sedere! Dico a tutti. Voglio che vi sediate. Tutti a sedere, capito? Lei se ne vada, Kittin! Scendete! Avanti, scendete tutti! Mi avete capito? Siediti tutti! Siediti tutti! Siediti tutti! Siediti tutti! Grazie figliore Grazie Grazie